ci ritroviamo insieme amici e amiche di teleradio padre pio come ogni venerdì anche quest'oggi nei nostri studi un gradito ospite permettetemi di ringraziare davvero di cuore fra gregorio da renzo che quest'oggi è arrivato qui nei nostri studi grazie padre gregorio per questa tua disponibilità noi ogni venerdì raccontiamo una storia dei ricordi belli della propria infanzia e soprattutto il riferimento a quella che la vocazione capuccina come nasce la vocazione di fra gregorio e chi era fra gregorio bambino la mia vocazione posso dire essere stato chiamato perché tutto pensavo perché dedicarmi completamente cosa volevi fare da grande cosa pensavi pensavo di seguire il mestiere di mio padre che era il macellaio infatti sono sempre un bambino molto socievole anche perché il mestiere se vogliamo dire un bambino non è che fa il mestiere ma il mestiere era il lattaio andare a vendere il latte perché avevamo animali avevo delle famiglie prenotate ma quando era l'abbondanza del latte girava per tutto il paese con una campanella per una campanella e vendevi il latte e andavo insieme ai miei compagni sono sempre un compagnone lo sei tuttora da bambino da bambino infatti difficilmente ero solo sempre con amici con compagni di scuola non di scuola eccetera la maestra a mio padre ha detto fate studiare questo figliuolo non lo fate perdere gli anni di studio e quindi papà voleva che doveva studiare quanti non voleva più studiare dopo la quinta elementare e allora si è chiesto dove poter andare perché al mio paese di peschici a quei tempi del 52 53 non c'erano le scuole medie le scuole medie bisognava andare a farlo a san nicandro a sansevero un bambino di 11 anni non poteva partire la mattina alle 4 prendere la garganica andare a san nicandro o a sansevero e ritornare poi alle 15 e 30 oppure proprio alle quasi alle 18 e 30 e allora ecco si è cercato di trovare avevo conosciuto degli amici dei compagni che entravano ad oria provincia di brindisi e lì ho fatto la domanda dove entrare lì a oria provincia di brindisi ad oria dovevi entrare nel per studiare per studiare per studiare per studiare come altri miei compagni sono sono andate poi hai continuato in un certo momento ho conosciuto padre gennaro che frequentava la casa della mia maestra vittoria e dove andavano dei miei compagni di scuola tra queste ecco posso ecco dire soltanto padre paulino cilenti e siamo sempre compagni e anch'io ho avuto questo eserente perché mi è piaciuta la figura di padre gennaro il suo modo di parlare e mi è piaciuta la barba anche tu affascinato dalla barba e sono tornata a casa e ho detto mamma papà non voglio andare più oria voglio andare con il figlio di mastro domenico che noi chiamavamo diciamo così papà di padre paolini ma perché era un muratore quindi sapeva molto lavorare e mi chiamavamo il mastro a queste mie parole mamma è una zia che viveva con noi sin dalla mia nascita perché aveva perso sia il marito sia i figli sono messa a piangere di gioia o non lo so sono messa a piangere sono messa a piangere contenti e allora abbiamo aveva già tutto pronto e il tuo papà era felice di questo contento e quindi ero pronto eccetera anche peppa appena sentito poi doveva entrare a pietricina ancora maggiore perché papà quando veniva per comprare nelle animali eccetera passava sempre a san giovanni rotondo e si fermava un po qui a san giovanni rotondo infatti quando ero bambino mi ricordo così vagamente sono anche io visto anche padre pio così ma da bambino così ma senza mai pensare di diventare capuzzi e sono andata a piedricina era per studiare non aveva ancora era molto soggetto però ecco a me è piaciuto subito vedere tanti bambini la compagnia erano quasi una cinquantina di ho conosciuto poi padre lino molto buono la preghiera piace perché anche se non pregavo però ascoltavo le preghiere che mamma e zia facevano sempre in casa infatti tante volte ci mettevano lì sulla panca lo dicevano il rosario noi rispondevamo e dormivamo già così un certo momento ecco sentendo 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 a santa lì a pianisi vedendo un po il monumento a padre raffaele a santa lì a pianisi si parlava di questo padre raffaele otte che aveva sentito il padre pio eccetera eccetera e poi mi è venuto quest'idea mi è venuta ma Gesù dice io sono il buon pastore voi siete i miei pecorelli e domenica ci trovavamo sempre sul sul lato di pastore ecco ho voluto tentare di continuare fino a quando poi hanno viziato ho sentito di essere stato proprio chiamato che lui chiama io ho risposto ma non avevo nessuna intenzione camminando dunque mamma sembra contento qualche episodio che è successo mamma sempre l'obbedienza ai miei superiori qualche bisogno lo posso dire altrimenti poi faccio il nome di qualche mio direttore che mi sta ascoltando che mi ascolterà sicuramente però lei sempre dice no figlio mio no figlio mio no figlio mio l'obbedienza quindi cosa ho avuto questa vocazione ripeto un po perché era molto compagnolo quindi ecco l'esperienza di francesco di san francesco giullare ti ha colpito e ti ha affascinato proprio perché tu eri già così poi quando ho visto poi alcuni film anche di san francesco è piaciuto un po e questa vita di darsi agli altri perché anche quando ero bambino dava gli altri perché noi ringraziando il signore proprio la fama non abbiamo sofferto non abbiamo sofferto e quindi era molto tante volte a dire la verità e prendevo soldi di nascosto vogliamo di rubare diciamo rubare a mio padre perché tante volte lui io conservava tante volte aiutava anche lì in macelleria e prendevi i soldi di nascosto prendevi i soldi proprio e poi spendevamo con i compagni era il mio tipo questo tipo anche da bambino è il mio tipo tanto che la gente quando sono entrato e mamma poi ha detto che mi doveva fare frate cappuccino nessuno ci credeva nessuno nessuno forse non ci credeva nemmeno io ci credevo forse questa è la storia di Dio infatti noi da una cinquantina siamo rimasti siamo arrivati 15 sacerdoti 5 sacerdoti 5 soltanto sacerdoti dunque quindi e mi ricordo che quando venivo qui padre pio dice che eravamo parecchi che la nostra squadra più di cinque più di una mani dovevamo una mani che potevo essere io possibile ah ecco padre pio aveva detto a questi 50 a noi con leggi e ci dice di quanto siamo arrivati che più di cinque non saremmo arrivati giusti cinque siamo arrivati quindi ma tra questi cinque non mi mettevo io mettevo un altro mio compagno di peschici che noi eravamo siamo entrati in quattro siamo entrato da peschici poi siamo rimasti in due padre paolino ed io e quindi ecco però tra i cinque non mi mettevo nemmeno io nemmeno la gente ci credeva non poteva credevo perché era un ragazzo molto sacerdoti e quindi era un ragazzo che ti aveva fastidio perché i giochi di allora non erano i giochi di oggi che si va in qualche locale in qualche pub prima i giochi erano all'esterno si giocava così e quindi andavano a nascondiglio quindi si andava negli mugnai e allora i vecchietti che si inquietavano tante volte che ci correvano appresso con la mazza di scopa che ci buttavano l'acqua ero molto triste diciamo così ma non facevo male a nessuno e questa tua gioia l'hai portata poi nella tua vita da frate? l'ho portata da frate infatti dobbiamo dire quando padre Gregorio entra da qualche parte si fa sentire poi in volte in volte io non ho fatto mai il mestiere del nominio che mi hanno dato che lo sanno tutti quanti mi chiamavano il pisciaiolo perché? e io invece io facevo il lattaglio il lattaglio perché portavo, parlavo, gridavo eccetera era così è molto gioioso padre Gregorio perché il tuo nome Gregorio? la scelta del... la mia scelta non è stata ecco proprio mia tua è stata il mio padre maestro padre Innocenzo perché lui ecco ha dato dei nomi a tutti quanti a me capitava il nome di frat Damiano ah Damiano ma dal momento che si parlava che tanti frat Damiano che si erano messo non è arrivato nessuno allora ho detto perché metto il frat Damiano? perché io volevo Francesco Maria per prendere il nome di mio padre e di tua madre e di mia madre ma c'erano già tanti tanti Francesco volevo prendere fra Michele il nome di mio fratere il più grande hanno detto di no fra Matteo Namentino insomma tra tanti nomi poi poi tra i nomi di riserva c'era questo Gregorio Clemente e un altro che non ricordo ho detto padre maestro mi posso chiamare Gregorio invece di chiamare Damiano sempre con l'intenzione sempre quella dice se questi frat Damiano ce li sono andati tutti ma li vado pure io quindi forse è stata proprio la volontà di Dico mi ha scelto infatti un altro mio compagno che aveva non so che nome ha preso frat Damiano e se n'è andato ah ecco allora non era fortunato e quindi padre maestro mi ha guardato e ha detto ma c'è un padre Gregorio ma è già di anziano che stava a Campobasso prima che tu prendi messa forse il signore se lo chiama come così è avvenuto e qui perciò mi trovo frat Gregorio sempre perché frat Damiano avevi paura? avevi un timore? noi che non piaceva perché avevo sentito che molti frat Damiani erano usciti avevano lasciato l'ambito e quindi da loro questo frat Damiano è pulito e ho messo frat Gregorio e poi lui mi ha detto però dovrei festeggiare San Gregorio Magno così 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 lo farai il 12 settembre prima della diciamo così della nuova legge traduzione di cose tipo adesso il 3 settembre adesso il 3 settembre perché così festeggi il 12 settembre e fai l'ottava ah ecco San Giuseppe perché io mi chiamo Giuseppe Antonio quindi facevi il 12 e il 19 perché per mamma era sempre Giuseppe siamo arrivati al sacerdozio da quanti anni sei sacerdozio? io sono il 17 dicembre di questo anno faccio 45 anni sacerdozio però ho chiesto sempre a mamma perché quando l'ho detto sei messa a piangere assieme a mia zia non me l'ha detto mai me l'ha detto dopo che ho preso messa dopo che e quindi ecco perché forse il Signore mi ha voluto io ogni volta che lo racconto questo fatto ecco mi commuovo ti emozioni mi emoziono quando mamma era incinta di me è venuta all'albero quindi c'era il rischio il rischio il rischio e mamma ha detto molto devono San Antonio perché noi avevamo la chiesa che adesso è parrocchia proprio vicino a casa dedicata a San Antonio dice San Antonio se nasce sano nasce vivo te lo affido a te te lo offro te lo offro sono nato ecco perché mi ha messo Giuseppe Antonio il nome di mia zia che viveva con noi Giuseppina perché voleva mia zia che portava Giuseppe e Antonio che poi tutti i miei fratelli portano quasi quanto Antonio perché era molto devono di San Antonio e quindi ecco vuol dire che già e poi questo te l'ha detto solo dopo dopo per non obbligare perché io volevo molto bene a mamma non l'avrei dato mai un dispiacere e lei aveva paura che io per assecondarla continuare il cammino per assecondarla continuare il cammino me l'ha detto ecco perché il pianto suo perché quando ho detto questo ha detto ecco San Antonio se lo avevi appellato che era un francescano perché me lo so venne a pigliare ma quindi di gioia me l'ha detto dopo perché non doveva essere un obbligo perché ripeto non avrei fatto mai un dispiacere a mamma mai anche a costa che era un piacere forse avrei continuato ma l'ha detto dopo che sono stato ordinato sacerdote a Campobasso ecco perciò il sì a Francesco il sì al Signore da 45 anni sei sacerdote Cappuccino questi 45 anni cosa di cosa ti sei occupato e qual è la parte più bella del ministero sacerdotale la verità ecco la mia parte era voleva fare il predicatore voleva fare poi il superiore mi hanno messo in attività infatti io avevo accettato prima di andare a Vico del Gargano presso l'istituto San Pietro San Pietro dove c'erano questi ragazzi sbandati eccetera poi mi hanno chiamato per poter insegnare alla scuola poi è rientrato il parroco che sono mandato a Massamacca la catola perché dove insegnare a Motta poi è stato fatto il sacerdote che insegnava e lo sono andato ad aiutare a San Severo mi sono innamorato della parrocchia quindi dei giovani delle persone infatti il tuo impegno da tanti anni è proprio quello all'interno della parrocchia ecco lo diciamo tu sei parroco qui attualmente nella chiesetta di San Francesco di San Francesco però a me quello che piaceva molto essere in contatto proprio con la pastorale con la pastorale ma con i malati ecco con i malati e volevo perché ripeto quando ero bambino andavo sempre vedere i malati quando morivano anche perché tu sei stato tanti anni anche cappellano l'ospedale casa sollievo sì quindi dopo quando mi hanno scelto di fare un collaboratore di padre Michele Placentino per i centri di repatriazione e con la proprietà anche aiutare anche ecco i cappellanti ragazzo l'anno dopo ho scelto di stare in ospedale che non si è andata mai via ero molto diciamo così portato a star vicino ai malati ai familiari e poi molta stima avevo dei medici dei personali tanto perché abbiamo ecco questa è la parte più difficile però quella che proprio ti appassionava quella purtroppo molte volte è anche capitato qui parlando anche con altri cappellani la parte più difficile anche dover poi preparare una persona purtroppo insomma in ospedale accade a preparare alla morte preparare i familiari preparare l'incontro con il signore questo forse è la parte più difficile ecco a me ecco a volte riuscì un po' facile perché avevo creato molto un rapporto veramente ecco familiare più che professionale con tutti i medici si può dire anche gli infermieri ecco si parlava mi volevano bene come voleva bene come voglio bene anche ad essere quei medici che conosco eccetera cosa quindi però ecco avevo molto molto un rapporto ottimo con i familiari con i familiari e in modo anche con i malati quindi anche quando io al malato chiedevo di poter ricevere il sacramento di confessarsi eccetera facilmente dicevano di sì e non avevano paura anche perché io avevo anche una tattica avevo io giravo tutti i reparti la mattina specialmente quei reparti a rischio che un domani potevano venire nel mio reparto chiedere l'oncologia l'ematologia la gastro che sono cose perché quando mi vedevano chiedevano di confessarsi ecco non potevano pensare ma perché già mi conoscevano perché io quando entravo tutto si parlava non si parlava poi chiedevano se volevano confessare parlare come noi però li conoscevi prima come persone si parlava di calcio si parlava di gastronomia si parlava e anzi qualche volta dicevi perché non ci portate anche noi cappellani quel che vuoi qualcosa e a dire la verità ho visto una generosità enorme non soltanto diciamo in denari che loro fanno ma l'ho visto molto in natura portavano non venire portavano a dire la verità e ancora tutt'ora alcuni che sono passata tanti tanti anni sono passati mi portano quando vengono non ci possiamo dimenticare mi porto qualche cosa alla loro terra mi portano quindi non avevo questa difficoltà però parlavo sempre con i medici anzi qualche volta i medici mi dicevano padre Gregorio se puoi parlare tu forse è meglio e io parlavo quindi non avevo questa difficoltà o forse perché giravo ogni giorno si scherzava ogni giorno specialmente poi quei malati che facevano periodicamente le terapie e così via quindi una volta che li conoscevo conoscevi bene e a dire la verità ecco quello che ho detto poi ecco quando parlavo non mi sono fatto mai vedere triste dai malati scherzavo sempre le mie battute qualche battuta forse potevo fare a meno ma tante volte si poteva fare la battuta eccetera anche quando vedevi delle belle ragazze ma sempre ecco per portare un po' di gioia per sollevare un po' di statura sollevare però quando tornavi nella mia camera il pianto veniva spontaneo perché io vedevo mamme giovani figli ragazzi mariti però lì non mi poteva far vedere così e scherzavo sempre ecco una certa volta facevo queste battute che potevano pensare ma non erano battute ecco maligne erano battute soltanto familiare sfamiliare come si può dare ecco un po' di dirissimo che bella ragazza sei tanto per dire no ma ecco infatti ecco forse i malati ecco si hanno attaccato perché a dire la verità non ho avuto mai ecco quasi un timore oppure una paura di dover dire oppure una tristezza anzi quando venivano loro stessi mi chiedevano di confessarsi loro stessi tanti io conosco ancora qualche signora che diceva padre Gregorio mio marito che è ancora vivo va ogni domenica mese e si confessa ogni tanto da quando tu lo hai confessato lo hai confessato ed era da tanti anni che non si confessava e infatti qualcosa che ci incontriamo ecco un abbraccio mi dà per questo motivo anche il marito proprio quindi ero poi per motivi diciamo così della nostra della vostra vita capuccina ecco mi hanno trasferito di nuovo a Sant'Anne a Sant'Anne io non poteva dire di no perché io ero attaccato molto a Sant'Anne a Sant'Anne il tuo impegno come parroco l'amore per i giovani ecco per i giovani no anche per i malati certo 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 soltanto che avevo iniziato proprio con i giovani a Sansevero che è stato vice parroco tuo padre Timoteo avevo una tanti tanti ecco poi il padre Timoteo ci aveva detto che c'erano tanti giovani a Sansevero sì molti giovani infatti con il padre Timoteo sono stato quasi un anno lui vice parroco io venivo andavo ad aiutare da San Marco la Cato poi andavo ai padre Timoteo e c'erano questi giovani e quindi già conoscevo quindi con gli scout perché ero anche degli scout poi certamente l'età si va avanti, si va avanti, si va avanti l'età nonostante che supero mi hanno messo sempre tra i giovani tra i bambini però ecco poi ecco certamente ecco dopo che sono andato a casa allievo molto per i malati ecco per gli anziani l'impegno anche in parrocchia ci scherzo e poi ecco piace perché proprio voleva stare sempre in mezzo alla gente quindi come parroco ecco prima di cappellare ma come parroco quindi sono stato quindi posso dire che la mia è stata sempre una vita diciamo così pastorale proprio sia insieme sia con i malati nella casa allievo per ben 13 anni e con i giovani all'interno dei parrocchiani con i parrocchiani e poi appunto padre padre Gregorio il tuo impegno ecco insieme con i parrocchiani io volevo chiederti questo padre Gregorio tu ci hai già detto un po' nella nella tua vita che ci sono state delle figure importanti San Francesco padre Pio padre Raffaele da Sant'Elia ma ci sono state anche tante figure non solo di di santi ma anche padri spirituali anche persone che hanno caratterizzato quella tua vocazione sì a me ecco in modo particolare mi è stato Padre Lino Padre Lino è il maestro del noviziato? no i primi tre anni di scuola media ah ecco a Piedrecina Padre Lino che dopo ho incontrato nel cammino l'ho avuto anche a Sant'Anno insieme quindi ecco Padre Lino che è stato proprio il primo direttore il primo direttore poi ecco l'altra figura che non posso mai tutti tutti non posso dimenticare perché tutti mi hanno avuto bene ecco gli insegnanti e i formatori sono importanti nei primi anni sì sono i primi anni poi ho avuto Padre Amedeo con Padre Anacleto però ecco posso dire che ho avuto sempre un buon rapporto con i miei potrei dire tutto potrei dire non posso dimenticare nessuno come non posso dimenticare Padre Rosario Borraggino che c'è stato nel Padre Innocenzo nonostante il suo misticismo e noi eravamo giovingelli non lo potevamo mai comprendere le sue cose però nonostante che dava le sue punizioni però ecco vedevamo un uomo di preghiera un uomo povero lo vedeva sempre scarso e perché ci facevamo salvo andando a scrazzare anche a noi sempre perché dice dobbiamo portare questa questa vita perché dobbiamo abituarci al sacrificio ecco ecco non posso dimenticare Padre Pietro direttore cioè tutti mi sono stato vicini Padre Benedetto da Ierzo ma non posso dimenticare nessuno però ecco dove proprio ecco ho iniziato poi è stato in Padre Lino il quale ci dava molto 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 importanza alla preghiera eravamo bambini alla comunione tanti che quando Padre Lino ci dava il direttore ci dava la punizione la punizione ci dava senza comunione per noi da bambini certo non era importantissimo poi ecco qualche altro vice direttore ha detto che sono queste punizioni e ci ha dato un po' le punizioni un po' più pesate ma senza comunione eravamo bambini di prima mese secondo me il terzo ma lui ecco ci doveva costruire perché infatti l'equalistice quindi è stato quei tre anni con Padre Lino ecco con Padre Agostino e poi con Padre Vito ecco però ecco ripeto ripeto non posso dimenticare nessuno i formatori i padri li ho voluti bene e mi hanno voluto bene ecco ancora tuttora quelli che sono vivi ecco chiamare sempre direttore precettore ma non perché è spontaneo è naturale perché non li posso non posso dimenticare nessuno non posso dimenticare ecco Padre Gregorio io ti vorrei far lanciare un messaggio ai giovani che sono i nostri ascolti che stanno vedendo il Teleradio Padre Pio soprattutto quei ragazzi che hanno dentro di loro un desiderio comunque una volontà di poter fare questa scelta cosa diresti tu a loro e alle loro famiglie io quello che direi copiatemi entrate fate l'esperienza non vi obbliga nessuno anzi la vita di oggi dello studentato è molto aperto tentate anche se forse non hanno la vocazione se sentono qualche piccolo dite di sì un po' di coraggio posso dire sì io sono entrato per studiare è piaciuta la vita di compagnia ho avuto dei superiori che mi hanno saputo comprendere mi hanno voluto bene molto bene come sicuramente troveranno non perderanno niente non perderanno anche i genitori mamma mia zia non mi hanno detto mai niente l'hanno detto dopo ma quando sono messo a piangere è stato un pianto di gioia e quanta gioia ho dato io a mamma e papà forse non avrei dato questa gioia se fosse diventato un professionista forse non lo so ma tanta gioia sia a papà sia a mamma sia a mamma ma a tutti a tutti io dico così provateci si dice tentare non lo so tentate entrate però posso dire io ho avuto tanta tanta soddisfazione certamente tante persone non l'avrei conosciuto se non fosse stato un frate francescano un sacerdote e qualche volta che mi domandano perché le sei fatto prete perché le sei fatto frate proprio una bambina mi ha domandato proprio l'altro ieri gli ho detto mi sono fatto frate perché dovevi conoscere te perché se non fosse stato frate non l'avrei conosciuto e tu non mi facevi la domanda quindi io mi sono fatto frate perché volevo conoscere te ho risposto a tutto ho risposto così qui non è che sono stato chiamato chiamato chiamami il Signore però ecco dico sempre se non fosse stato frate non avrei conosciuto tante tante persone e forse tante tante persone non avrebbero conosciuto me e forse non avrei avuto tanto amore sì da parte mia e loro confronti come anche da parte loro perché non si perde niente lavorando per il Signore questo lo posso dire sinceramente non si perde niente non si perde qualche volta pesa un po' l'obbedienza ma l'obbedienza si fa sempre l'obbedienza e tanto e concludo ci troviamo anche adesso in questa crisi quando i sacrifici faranno fare non lo sappiamo senza sacrificio non c'è vita come si può dire come ha detto anche ecco padre Pio si impara ad amare sotto la croce come forse ho imparato anche io ad amare anche sei superiori tante volte ci hanno dato punizioni e punizioni però grazie Signore ringrazio i miei superiori e dire la verità ringrazio molto mamma e mia zia che non mi hanno detto mai altrimenti forse potevo dire di essere stato obbligato invece è stata una mia una chiama una mia libera scelta un dire sì a Gesù che mi ha chiamato grazie padre Gregorio grazie perché hai aperto il cuore quest'oggi con noi per i tuoi ricordi più belli della tua infanzia dei tuoi primi anni da frate grazie ancora speriamo di riaverti riaverti presto con noi io ringrazio questo e con noi venite e vedete grazie grazie padre Gregorio